A Palazzetto di San Laurentino il 12 giugno prossimo, grande evento di karate, karate vecchia maniera però possiamo dire. Cosiddetto karate tradizionale, termine un po' abusato, dovremmo scendere nel particolare, lo stiamo facendo con l'associazione culturale Acti, l'associazione karate tradizionale, karate do tradizionale Italia, che è stata riconosciuta da poco dalla World Traditional Karate Do Federation, una federazione internazionale che si ispira ai principi scritti e enunciati dal maestro Nishiyama, maestro del maestro Shirai, quindi è una genealogia importantissima e un livello qualitativo enorme. Stiamo cercando di ripercorrere questa strada che è legata appunto a un karate marziale non sportivo, senza nulla togliere ciò che si intende come karate sportivo, però la componente marziale è stata la primaria e noi continuiamo a perseguire questo obiettivo di far conoscere alle persone attraverso la cultura ciò che è il karate tradizionale o classico, che dir si voglia. Per questo evento di Arezzo del 12 ci sono delle selezioni importanti, perché si parla di selezioni mondiali. Certo, è un primo approccio, ce ne saranno delle altre, l'obiettivo è quello di portare una rappresentativa italiana in occasione dei campionati del mondo di karate tradizionale che si terranno a Cracovia, in Polonia, a ottobre di quest'anno. Non ci dimentichiamo della componente più ludica, in quanto la giornata è strutturata così, diciamo la mattina, spazio per i bambini, per i ragazzi, un approccio propedeutico al karate. La seconda parte della giornata invece è incentrata su un livello più qualitativo, è incentrata appunto a formare questa rappresentativa italiana per i campionati del mondo. Quest'anno abbiamo avuto anche modo di far sì che il comune di Arezzo ha dato il suo patrocinio, in occasione dell'evento parteciperà anche la nostra rappresentativa CADA, che è sempre presente, il karate è adattato a diversamente abili. Quindi spazio per tutti, karate tradizionale, marziale, karate per i bambini, per i ragazzi e per i disabili. 12 giugno, palazzetto di San Laurentino.